Mi ha detto che devo fare un passaggio di mano con te. Perché? Perché sei il migliore. Ero? No, lo sei stato, lo sei e lo sarai ancora per molto tempo. Ero, eroina. Ma perché mi hai preso? Per un delinquente? Cocaina, cocaina, bu! Siri qua subito, subito qua! Non devi pronunciare mai ad alta voce, vuoi farci arrestare? Eh? Scusa. Eh, scusa. Allora, ripeti, sei venuto da me per? Perché sei il migliore. Sai come mi chiamano? Lo so, Ignazio, lo sanno tutti. Ma che è Ignazio? Il surname. Non lo sapevo, ma fa paura. Cosa? Eh, i bambini non ci dormono. Cosa? Guarda che se non dormi chiamo Ignazio il surname. Surname e soprannome. Mi chiamano Ignazio? Pellagra. Ma che è Pellagra? Ignazio? Piede di porco. Ma no, piede di... Ignazio. Faccia di tolo. Ma no, mani di velluto. E dillo, mano di velluto. Eh. chiaveto.